eccoci eccoci ancora che amici siamo instancabili oserei dire quasi immortali anche questo giorno che per forse per popoli di altri paesi è un giorno di festa per noi è un giorno di lotta di lotta democratica lotta soprattutto giudiziaria normativa anche oggi come vedete stiamo lavorando stiamo lavorando ormai da 48 ore ininterrottamente ci avete chiamate in migliaia ci sono vedete vedete non ci saremmo mai aspettati perché perché forse era una cultura come possiamo dire un po un po nascosta ma non ci saremmo mai immaginati decine di migliaia decine 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 di migliaia di persone che lavorano nel comparto della sanità che hanno fatto una loro scelta una scelta di vita democratica quella di non vaccinarsi e che purtroppo la democrazia in questo momento non consente siamo a un punto del non ritorno lo diciamo sempre per tutti non fate non fatevi gabbare dagli opposti estremismi ricordiamoci che ci sono stati 30 anni di governi in passato che hanno vissuto degli opposti estremismi stragi inventate insieme ai servizi segreti si diceva e hanno consentito da una parte da una parte terrorismo di destra dall'altra parte terrorismo di sinistra con in mezzo questo stato un po strano hanno consentito di prosperare con non non cadete in questo tranello non esiste una società democratica attuale divisa in no access i vax è una cosa folle la nostra società deve essere divisa tra chi vuole mantenere diritti costituzionali e i negazionisti della costituzione è così noi ci poniamo tra quelli che la tutelano la difendono c'è un grandissimo popolo del comparto sanità non solo ovviamente che in questo momento dopo essersi acculturati dopo aver letto tutto quello che c'era da leggere dopo aver collocato discusso con scienziati di tutto il mondo hanno deciso hanno preso decisione io non mi vaccino i testimoni di geova hanno preso la decisione io non mi faccio trasfusione sangue i buddhisti hanno preso un'altra decisione i gli islamici hanno preso altre decisioni che conosciamo bene gli unici a essere penalizzati e condannati sono i cittadini italiani del comparto sanità che hanno deciso di non vaccinarsi allora stiamo dando loro una tutela giuridica giudiziaria normativa eccoci siamo presenti eccoci siamo qui siamo nello studio a lavorare abbiamo abbiamo lavorato insieme tanti altri colleghi ognuno nei più svariati punti d'italia oggi l'associazione io sto con l'avvocato polacco ha pubblicato in questo momento il modulo di diffida che potrà essere inviato adesso vediamo a tutte quante le istituzioni per chiedere ai sensi di legge ai sensi di legge di non essere vaccinati allora guardiamo insieme quello che abbiamo partorito in pochissime ore in pochissime ore ma questo dimostra non solo che c'è da una parte di una grande fetta del popolo italiano chi vuole non privarsi non privarsi dei propri diritti costituzionali e di legge perché vedete questo decreto non solo è contrario a costituzione le costituzioni europee norme di oviedo una valanga di norme ma anche al codice civile italiano cioè con un decreto legge un decreto legge che non si saprà come quando sarà convertito si deroga il codice civile codice civile oltre alle norme penali guardiamo insieme ve lo spieghiamo insieme lo guardiamo eccolo qui come al solito andiamo sul nostro sito vedete io sto con l'avvocato polacco punto it ci andiamo tutti insieme così ricordiamoci si clicca su continua sul sito ecco abbiamo cliccato documenti documenti ecco qui clicchiamo su documenti e i nostri tecnici che hanno ancora oggi lavorato ringraziamo sempre immensamente gabriele e dario dell'alter eco che sono indispensabili alla nostra vita ecco qui obbligo vaccinale comparto sanità diffida vaccinazione comparto sanità eccolo qui ovviamente cari amici questo modulo può essere utilizzato ovviamente anche da altre persone di altri comparti dove i datori di lavoro vogliono obbligare a vaccinare i propri dipendenti ecco questo modulo amplissimo che può essere utilizzato da chiunque allora innanzitutto qui ci sono una serie di indizi ovviamente ognuno lo deve trovare su internet l'indirizzo della propria della propria regione della propria asle o del proprio ordine professionale del proprio lavoro del lavoro e si può mandare sia mezzo pec sia mezzo mail sia mezzo raccomandata nel modo più semplice per voi possibile già domani potete inviare queste diffide diffide all'adempimento del decreto legge 1421 numero 44 allora tutti i dati come vedete dopo di che c'è premette che si fa una escursus di quello che prevede il decreto legge vedete durante la sospensione non è dovuta la retribuzione articolo 4 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 dopo di che dopo aver fatto un breve escursus di quello che prevede il decreto legge si precisa che tutte le suddette normative appena contare le leggi attuali statali non abolite statuto dei lavoratori articolo 21 03 codice civile costituzione repubblica italiana convenzione europea dei diritti dell'uomo codice di norimberga convenzione di oviedo consiglio d'europa e come vedete tutte quante le normative che vengono violate dopodiché si fa un minimo escursus di quello che l'aifa pubblica ecco qui guardate abbiamo anche messo ecco qui il il link dell'aifa vedete agenzia di governo dove viene descritto il vaccino sempre dall'aifa non da noi composizione adenovirus di chimpanze prodotto in cellule renali embrionali umani geneticamente modificate mediante tecnologie del dna ricombinate questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati possibili effetti collaterali trombosi eccetera eccetera l'efficacia e la sicurezza del vaccino non sono state valutate nei soggetti immunocompressi la durata offerta del vaccino non è nota la protezione inizia solo dopo tre settimane eccetera eccetera abbiamo riportato perfettamente quello che viene scritto dall'aifa nel nella pubblicazione dei vaccini ed ecco come vedete abbiamo inserito anche il link perché noi riportiamo tutti i documenti ovviamente originali per tutto quanto soprapposto la sottoscritta invita preventivamente il servizio vaccinale a mettere a conoscenza del sottoscritto la marca di vaccino che si intende intende inoculare il numero di lotto il numero di codice a barre la data di scadenza la certificazione di conservazione e così via diffida dal porre in essere nei confronti del sottoscritto eventuali azioni penalmente perseguibili articolo 610 violenza privata minacce tentata estorsione intima il servizio vaccinale della propria regione di non mettere a disposizione i terzi dati sensibili vaccinali del sottoscritto diffida il proprio datore di lavoro diffida il proprio lavoro di lavoro ai sensi dell'articolo 21 03 del codice civile ed ecco qui che riportiamo integralmente l'articolo 21 03 del codice civile dove asserisce lo riportiamo appositamente integralmente in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale il lavoratore ha diritto a conservare il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in godimento quindi la norma del decreto legge che abbassa le mansioni a livello inferiore del lavoratore e che lo priva del suo stipendio originale è assolutamente illegittima ed è contraria addirittura al codice civile articolo 21 03 dopodiché si elegge domicilio abbiamo anche inserito perché qualcuno ci sta chiedendo di di elegge domicilio presso lo studio legale di essere rappresentati del studio legale il l'elezione domicilio se la si vuole fare a proprio nel proprio domicilio eccola qui altrimenti per legge domicilio presso lo studio legale dove si dovrà prima ci si dovrà prima accordare e avere il consenso dello studio legale si allega la carta di identità un documento di identità e si spedisce agli indirizzi che vi abbiamo appena detto ecco questa è ovviamente lo voglio ricordare tutto questo lavoro che abbiamo svolto come associazioni lo abbiamo svolto e lo continuiamo a svolgere con nostro personale sacrificio come vedete gratuitamente per tutti i cittadini italiani il lavoro di consulenza che stiamo facendo ecco abbiamo abbiamo postato liberamente guardate non lo abbiamo neanche messo a disposizione dei soli iscritti per cui chi vuole si può iscrivere l'associazione ci consente di vivere senza essere finanziati da lobby ma lo mettiamo a disposizione gratuito ecco la grande creazione di questa nostra famiglia che sta prendendo piede e che ormai è un punto fondamentale di questa nostra vita emergenziale abbiamo creato questa famiglia fantastica allora siamo a disposizione vi abbiamo messo a disposizione anche come avete visto un nostro una nostra mail specifica diritto sanità chiocciola io sto con l'avvocato polacco punto it tutte le altre associazioni hanno lo stesso account diritto sanità chiocciola eccetera eccetera quindi quindi abbiamo creato una rete su tutto il territorio nazionale fantastici questi avvocati finalmente gli avvocati possono alzare la toga e dire siamo l'unico l'ultimo baluardo della democrazia giuridica questo è un grande onore alla mia età dopo aver vissuto il vilipendio della legge delle istituzioni giuridiche del ruolo degli avvocati finalmente questo nuovo ruolo di difensori della costituzione ci riempie di orgoglio quindi rimaniamo a vostra disposizione ci potete scrivere le nostre mail anche nelle prossime ore stiamo stiamo lavorando 24 ore su 24 i prossimi giorni saranno particolarmente importanti dal sito io sto con l'avvocato polacco punto it e potete apprendere potrete apprendere quotidianamente tutte le novità che ci sono vi abbraccio ci vediamo ovviamente quasi tutti i giorni scusateci se non vi riusciamo a rispondere immediatamente ma ovviamente capirete che siamo siamo siete siamo una grande famiglia siamo migliaia e migliaia di persone e noi non abbiamo i mezzi che hanno le grandi imprese ma abbiamo il coraggio degli uomini democratici una